Guardate il personaggio di wfore.net, guardate. Voglio dire ai giornalisti e ai direttori di giornale che stanno pubblicando articoli e titoli su questo judo caserbo che sarebbe stato squalificato barra sospeso per aversarsi fatto il segno della cruce, che state pubblicando una marea di cazzate e che forse dovreste iscrivervi in massa al mio canale YouTube, così potreste prevenire questi problemi, perché l'articolo l'ho scritto praticamente ieri, tra mezzanotte e l'una, ieri è uscito l'articolo, dove dicevo che questa notizia è falsa, il judoca non è stato squalificato perché ha fatto il segno della croce, ma perché non ha fatto il saluto all'avversario, che nel judo è obbligatorio e poi aveva dei progressi nel 2018 e nel 2022, quindi forse prima di buttare enfasi sul segno della croce sarebbe il caso di leggersi proprio la dichiarazione della commissione, è tutto scritto lì. Guardate cosa dice il comunicato stampa della federazione di judo, poi così comprenderete che cos'è bufale.net. Mi fa tenerezza, ti mando un bacio, ciao ciccio. Il comunicato ufficiale della federazione internazionale di judo del 18 settembre cita testualmente, più specificatamente è stato accusato di aver mostrato un chiaro segno religioso quando è entrato nel campo di gioco e di aver rifiutato di inchinarsi al suo avversario alla fine del combattimento. Questi amici sono quelli che dovrebbero smentire le bufale e che sono i primi a dire le bufale. Dubbi non ce ne sono. Ciao a tutti.